Salve ragazzi benvenuti al canale oggi raga di nuovo qui sulla splendida mappa alpina qui su farming simulator 22 nuovamente qui a lavorare sulle belle alpi Allora ragazzi siamo lasciati lo scorso episodio con l'acquisto e l'inizio della produzione di semi, erbicida, fertilizzante eccetera 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 In realtà non abbiamo messo ancora in produzione nulla nel senso che io off camera sono andato a terminare di riempire perlomeno tutto quello che potevamo riempire L'unica momentaneamente produzione che possiamo attivare è la produzione dell'erbicida perché purtroppo come vi ho scritto anche nello scorso episodio Per far semi oltre che non mi ero accorto nello scorso episodio oltre al frumento o orzo serve anche il fertilizzante purtroppo E il fertilizzante si fa con concime che già abbiamo messo e purtroppo calceviva 448 e via 8000 litri dai iniziano a produrre e quindi di conseguenza come vedete inizia a produrre pure i semi Vedete? Allora oggi cosa facciamo? Beh off camera in realtà ho fatto come detto un po' di cosine che vi racconto adesso adesso Allora ho vabbè terminato di rifornire la fabbrica va bene ho convertito a proposito ho convertito la botte dell'acqua che avevamo con una botte universale Questa botte mi ha dato il permesso di poter andare a portare perché se no non avrei avuto la possibilità di andare a portare il diesel E poi ho sistemato tutte le serre così ripartono con la produzione e vabbè ho sistemato un paio di livelli per quanto riguarda il bunker dei liquami Quindi oggi voglio andare a fare una cosa un po' interessante Allora ho guardato un po' fra le produzioni prima di iniziare la puntata e ho visto che finalmente Vediamo un po' se lo riesco a farvelo vedere Guardate qua lo zuccherificio ha riempito completamente tutta quanta la fabbrica di appunto di zucchero Quindi tutto questo zucchero io ho pensato cosa me ne faccio ma guardate qua quanto zucchero abbiamo Cosa me ne faccio e ho pensato o lo portiamo al forno oppure c'è un'altra lavorazione che si può fare con lo zucchero Che è il caseificio e al caseificio si può fare formaggio si può fare cioccolato e si può fare il burro La cosa bella è che noi all'interno della stalla abbiamo circa 10.000 litri di latte L'idea mia sarebbe quella di oggi andare a prendere il caseificio e provare a utilizzare questo spendito caseificio Ma prima però devo capire un attimino Abbiamo tutti in campi in crescita Ci sarebbe richiesta un po' di rullatura in giro Sì ok allora direi che possiamo prima di tutto iniziare raga la rullatura dei campi Abbiamo il rullo da qualche parte Non credo che oggi manderemo avanti il tempo Credo che iniziamo le lavorazioni diciamo post semina Allora perfetto mi sono creato il percorsino in campo Dal primo punto partiamo inizia a rullare Ok la rullatura è partita perfetto Non so perché mi rulla solo un angolino ma credo che poi si aggiusterà lui da solo Per quanto riguarda le passate successive Va bene lasciamolo lavorare per il momento Io nel frattempo ovviamente che lì va a rullare quindi non abbiamo granché da fare Voglio andare a iniziare a capire questo spendito caseificio che cosa devo farne Allora il caseificio è qui Eccolo qua il piccolo caseificio 70.000 euro ovviamente che verranno richiesti immediatamente al buon comune Ah no aspettate un po' Aspettate un po' sto dicendo una cavolata Questo è il caseificio Caserei Eccolo qua Caserei Ah non c'è bisogno neanche che lo compro Allora eccolo qua Ecco l'accredito del nostro buon comune Abbiamo fatto una bella trattativa ma Il nostro bel sindaco è sempre concorde A mandare avanti la nostra bella cittadina Eccolo qui abbiamo il nostro bellissimo Ecco burro e formaggio Ah qua però non può fare cioccolato mi sa Mi sa che non possiamo fare cioccolato Da qua servirebbe la cioccolateria Eh sì esatto Vabbè prenderemo anche la cioccolateria Perché in realtà io pensavo che il caseificio facesse entrambe In realtà c'è qui in questa mappa c'è il caseificio e la cioccolateria Sono due elementi differenti Quindi voglio dato che voglio sfruttare anche lo zucchero Voglio prendermi anche lei Quindi eccolo qua Non so perché li hanno tenuti separati Purtroppo non possiamo fare granché Comunque da qui possiamo estrarre poi formaggio Burro e a questo punto cioccolato Perfetto allora andiamo a recuperare palette di zucchero E poi appena finiamo con lo zucchero con la botte Andiamo a recuperare 4.000 litri di latte Li portiamo alla cioccolateria 4.000 e qualcosa E gli altri 4.000 e qualcosa li portiamo al caseificio Insomma al caserea e al caseificio Allora ci siamo caricati eh 20.000 litri Belli pieni pieni di zucchero Adesso dobbiamo stare abbastanza attenti Perché qua se no facciamo veramente una strage questo zucchero Ok raga eccoci arrivati alla fabbrica Vediamo un attimino Di dar Questa bella roba Alla nostra bella fabbrichetta Fa un po' fatica eh Qua diciamo che non è proprio Stato ottimizzato sto punto qua E va di scarico di zucchero Benissimo E abbiamo scaricato tutto lo zucchero Abbiamo scaricato 20.000 litri Non so se basta No In realtà ne serve ancora Quindi Ok raga Ho fatto un Overload proprio Un carico extra 22.000 litri ancora Credo che Questi 22.000 litri Non ci staranno tutti all'interno della fabbrica Perché comunque siamo già a più della metà Comunque la fabbrica Lo zuccherificio insomma è stato svuotato completamente Quindi siamo già a buon punto Io adesso allora lì abbiamo la cioccolateria Ho notato purtroppo A mio malgrado Che Abbiamo i ponti L'uno dall'altro Un po' troppo distanti Quindi Il buon Simo Che cosa gli è venuto in mente Per andare a ovviare A questo problema E avere una strada un po' più semplice Andare a mettere un ponte proprio qui Ok raga Come vedete Ho posizionato il mio bel ponticello Molto piccolo Molto diciamo così Approssimativo Però devo dire Mi piace molto Mi piace molto Adesso ci metto un po' di terriccio Qui l'ho pagato con i miei soldini Raga Giusto per Ok raga perfetto Ho creato un po' di Punticini In più Un po' di viuzzole segrete Giusto per il passaggio dei trattori E come vedete Adesso abbiamo Questo Bel Ponticello Che ci aiuterà Insomma Con il passare Un po' più Decentemente Ecco L'unica Pack Che qui Ok raga Allora abbiamo scaricato il tutto Purtroppo sono rimasti Questi pochi pallet Che a questo punto Vado a scaricare Quasi quasi Vado proprio a scaricare All'interno Man mano Poi lui Penso che Se li Se li recupera Immagino Ecco Una roba del genere Raga Man mano Poi lui Penso che Se li venga A recuperare Cioè che se li Ricarichi da solo Non avrà bisogno Di grossi Di grossi Mano Insomma Per Per arrangiarsi Con questa Con questo zucchero L'unica cosa Che devo andare Probabilmente A sistemarmi Con Il latte Quindi vado a prendere I primi 4000 litri Di latte Ok raga Ho creato Tutto una sorta Di Struttura Speriamo che il treno Non si bughi Malamente Perché se no Allora Treno in arrivo Tra 3 2 1 E si che passa Raga Passa perfettamente Nessun tipo di problema Ottimo Allora per fare questa Lavorazione però Mi vado a recuperare Il John Deere Che c'ha un aggancio Per i rallati Un po' più alto Quindi dovrebbe Mantenere un equilibrio Decisamente migliore Rispetto al case Che c'ha un aggancio Veramente Stranissimo Che mai avevo visto Nessun trattore Quindi Boh Poi altra cosa Che probabilmente Vorrei fare oggi Dato che E vista la Purtroppo Gravissima problematica Che sto riscontrando In questa serie Ovvero Il forte lag Dato Da tutto questo Fogliame Vicino degli alberi Oggi Nonostante siamo Un po' fuori stagione Andiamo comunque A cippare Tutti gli alberi Ovviamente Tutta questa cippatura Verrà Diciamo così Stoccata All'interno Del nostro Silo Quindi Non andiamo subito A vendere Andiamo a stoccare Tutto al silo Poi Man mano Insomma Vediamo Però C'ho troppo fogliame Raga Quindi purtroppo Mi tocca per forza Andare a vendere Scusate A recuperare Tutto sto cippato Perché Veramente Sto laggando Terribilmente Allora Intanto iniziamo A riempirci Di tutto il latte Che abbiamo Guardate Come vedete Tutto il nostro Bell lattino In teoria Dovrebbe esserci Ancora un po' Di litri All'interno Metà Come detto Al caseificio E metà Come detto Alla Cioccolateria Allora Raga Eccoci arrivati Iniziamo A scaricare Un po' Di Latte Come detto Ne scarichiamo Giusto 4000 litri Ok Basta Ne ho dato anche troppo 3976 Va benissimo Dovremmo riuscire A far partire Finalmente La Attiva Eccola qua E' già attiva Raga E' già attiva Bene 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 Latte ovviamente Ne servirà A quantità Industriale Perché con Un litro Di latte E un litro Di zucchero Facciamo una Tavoletta Di cioccolato In teoria 4000 litri Dovrebbe dire Almeno 4000 litri Di cioccolato Allora Ecco la produzione Del caseificio Penso che Qua sia Lo scarico A questo punto Di Formaggio Di insomma Di tutte le materie prime Sì Ok In teoria Dovrebbe partire Subito La produzione Di formaggio Vediamo un po' Sì E' partita anche La produzione Di burro E formaggio Benissimo Ok Mi sono ricaricato Ancora questi ultimi 980 litri Che vado a portare Tutti al caseificio E Così almeno Facciamo partire Per benino La produzione Di burro E formaggio Anche perché lì E' una produzione Doppia Quindi Serve più Latte possibile Ok Perfetto Sistemato Anche il latte Benissimo Adesso a questo punto Andiamo verso La farm Se si può No Non si può raggiungere Va bene Allora dai Qua mandiamo L'operaio Che tanto Penso che se la possa Tranquillamente cavare Qui abbiamo finito La rullatura Quindi chiudiamo E' stato tutto rullato In teoria Vediamo un attimino Se è a posto Se è a posto Bisognerà venire A fertilizzare Adesso Quindi Vediamo se posso Darci già una botta Di fertilizzata E nel frattempo Mi vado a rullare Il 14 Il 21 Il 22 Ok Mi sono già salvato Il bel percorsino Raga Ho già creato Il tutto Facciamo ovviamente Dal primo punto Dovrò venire a togliere Pure Sti Sto alberello Qua Quasi quasi Va perché Vedo che mi da Un po' Di problematiche Va bene Qui siamo partiti Qui Vediamo un pochettino Se possiamo Già Iniziare la fertilizzazione Quasi quasi Ah nel frattempo Arrivato anche L'altro trattorino Ottimo Allora vedo che Qua c'è calce A questo punto Scusate un po' Ma perché io mi devo Sempre andare a limitare Mi vado a prendere Un altro spandifertilizzante Quasi quasi Intanto vediamo Se c'è qualcosa Qua Ma vedo di no E ovviamente La mia idea Ricade Ovviamente Dato che questo Può fare solo Da spandifertilizzante Sul Rauch Non saprei come dirlo Aero 32.1 Questo qua È uno splendido Spandifertilizzante Che potete trovare Nella sezione Mod del gioco Ed è davvero Molto interessante Da provare Perché adesso Vi faccio vedere Che dinamiche Ha Allora Me lo compro Costa un po' Effettivamente Perché costa 83.000 euro Ma credo che Questo sia Lo compri una volta Non lo compri più Voglio dire Anche perché Data la grande Metratura Dovrebbe essere Veramente Un ottimo Attrezzino Eccolo qua Allora la cosa bella È che questo Spandifertilizzante A differenza Degli altri Spandifertilizzanti Si apre Come fosse Un'irroratrice E quindi Va a Spandere A un'ampiezza Decisamente Molto più Ampia Di un Qualsiasi Spandifertilizzante Comune Questo sicuramente Ci aiuterà Non solo Con Comunque I costi Di fertilizzazione Che saranno Comunque Inferiori Data l'ampia Metratura Ma Anche Velocizzandoci Notevolmente Insomma Che è la cosa Che in realtà Poi Mi preme più di tutti Alla fine Che bellezza Guardate un po' Che meraviglia Guardate quanto è ampio Quindi guardate quanto Fertilizzante Sì Voi potreste Dimmi Ma Simo Non potevi usare L'irroratrice Scusa Per espandere Il fertilizzante Liquido In realtà Sì Cioè Perché no Però Perché non Poterlo fare Con un attrezzo Così Ok Ecco qua Raga Ho creato Il punto Adesso Proviamo a farlo Partire Vediamo un po' Se funziona Il tutto Eccola qua La fertilizzazione Ovviamente Sblocchiamo la velocità Che voglio andare Il più rapido Possibile Ma guardate Che meraviglia Che meraviglia E' già un po' Che ce l'avevo in mente Di volerlo provare Sto spandifertilizzante Quindi ho colto L'occasione Che dovevamo Fertilizzare Proprio per Provare Anche questo Bello spandifertilizzante Come vedete Il fertilizzante Viene Irrorato Praticamente Da questo Lungo Canale qua Lungo tutto Il campo E ci fertilizza Praticamente Come se fosse Un'irroratrice Tutto sommato Però Di fertilizzante Solido Che la differenza Comunque sostanziale Perché fertilizzante Solido In teoria dovrebbe costare Meno del fertilizzante Liquido In teoria Comunque Detto ciò Direi che Perché qua ti sei Fermato Vai Vai pure Tranquillo Allora Già che ci siamo Adesso Facciamo una cosa Subito Molto rapida Desbrigativa Sbrigativa Ovvero Quella di andare A recuperarci Un Dove sta Dove sta Eccolo qua Macchina per la silvicoltura Prendiamo lui Perché secondo me Lo noleggiamo ovviamente Ok Iniziamo a Tirar giù un po' di roba Perché secondo me L'operaio si è bloccato Perché ha rilevato La collision di quell'albero lì Quindi Perfetto Ho tolto l'albero Così in teoria dovrebbe risultare Un po' più semplice Per il nostro piccolo operaio Andare a sistemarsi Insomma Il campo Va bene Nel frattempo Là sta fertilizzando Di là sta rullando Poi veniamo a fertilizzare Poi andiamo a rullare di là E poi andiamo a fertilizzare anche di là E nel frattempo Io invece mi inizio a togliere Un po' di alberi Almeno un po' Se non tutti Almeno un po' Li stocchiamo nel silo E quando sarà periodo di vendita Andiamo a vendere Il cipato prodotto ovviamente Ok Primo pieno Io credo che qua Raga Di roba Ne uscirà davvero parecchia Perché Veramente C'è tanto Tanto da dover togliere Con la scusa Verrò a togliermi anche poi Sti alberi qua Che mi danno un po' fastidio E Penso che Dalle prossime volte Adesso appena riusciremo A vendere ovviamente Tutto sto cipato E fare un bel po' Di soldi Credo che Ci andremo A Mettere gli alberi In In un altro punto Raga Decisamente in un altro punto Raga Credo che abbiamo Un piccolo problema Credo che abbiamo Terminato lo spazio Disponibile Sul Sul silo Credo che non abbiamo Più spazio per andare A cipare alberi E questo è un problema Perché Vuol dire che Devo per forza Aspettare il periodo Di raccolta Cioè di vendita Voglio dire Per andare a farlo E quindi vuol dire Che potrei Avere qualche problemi Di lag E questo Non è affatto Buono Oh diamine Ragazzi È un piccolo problema Abbiamo finito Lo spazio Mi sa Mi sa che abbiamo Finito lo spazio Perché se mi dice così Vuol dire che abbiamo Finito lo spazio Non è anche iniziato Accidenti Questo si che potrebbe Essere un problema Raga Un grosso problema Perché sto laggando Davvero troppo In sto periodo Boh Nel frattempo Intanto ho tolto Anche Tutta sta roba qua Che mi dava comunque Un po' fastidio Adesso qua potrò Creare una bella strada E passare per benino Anche da di qua E piccolo problema Come detto Non abbiamo più spazio All'interno del Del silo Vediamo se abbiamo Un qualche punto Per lo stoccaggio Del Del cippato Allora raga Da come mi ricordavo bene Infatti Avevo uno stoccaggio Di cippato Questo mi pare Che sia uno stoccaggio Da 4 milioni Se non mi ricordo male Però ora che ci sto pensando Noi abbiamo Comunque La produzione Di Assi di legno E nella produzione Di assi di legno C'è comunque Uno stoccaggio Di cippato Adesso io non so Se questo stoccaggio Di cippato Può essere utilizzato Anche come silo Per cippati esterni Perché mi pare Che ci sia Il punto di scarico Anche di questo Cippato No C'è solo il punto Di carico C'è solo il punto Di carico Ok Allora devo prendere Lo stoccaggio Di Eccolo qua raga Inserito Penso che Vada abbastanza bene 4 milioni di litri Comunque sono sempre 4 milioni di litri Quindi Credo che Tutto sommato Possa andare Sufficientemente bene Ecco come vedete Scarica Iniziamo lo scarico E pian piano Qua poi si va Ok Scarica anche lui Pian piano Si va a scaricare Insomma Tutto quello Che È all'interno E Abbiamo almeno Un carico Di Un silo Che possa contenere Il nostro Cippato Probabilmente Anche il silo Che abbiamo Eh voglio dire Il cippato Che abbiamo Nel silo Principale Probabilmente Lo verò A stoccare Di qua Perfetto Pian piano Sto iniziando A togliere Il tutto E pian piano Vedo che I Vari FPS Del mio Povero gioco Stanno Il mio povero Computer Stanno risalendo Quindi vuol dire Che Sto agendo Secondo Procedura Vado a questo Punto A scaricare Ancora un po' Di cippato Penso che questa lavorazione Me la andrò a terminare Off camera Vado a stoccarmi Tutto All'interno Di questo Punto Punto di stoccaggio Insomma Che Fortunatamente Ci da una Grossa mano Qui nel frattempo Abbiamo Terminato La fertilizzazione Prima fertilizzazione 50% Ok Allora Per quanto riguarda Queste lavorazioni Post semina Me le andrò a terminare Io off camera Così almeno Qua poi Cioè nel senso Finisco io Con calma Tanto Per il momento Lui è ancora A sto punto Quindi ci vorrà Ancora probabilmente Un po' Prima di poter Dichiararsi conclusa Questa Queste varie Lavorazioni Va bene Dai Altro pienone L'ho fatto Direi che Comunque per questo Episodio Possiamo anche Fermarci Perché abbiamo Fatto davvero Già un bel po' Di cose Quindi non vorrei Andare troppo oltre Off camera Mi vado a terminare Tutte le lavorazioni Che ho Vado a stoccare Il chipato All'interno Di questo Bello Bel nuovo siletto E poi insomma Vediamo Prossimo episodio Che fare Momentaneamente Come detto Ci possiamo fermare qua Io raga Vi ringrazio Per la visione Vi ricordo Come sempre Che giù in descrizione Potete trovare Tutti i miei link utili Ho preso anche un link Che vi permette di comprare Questo ma anche Tanti altri giochi scontati Mi raccomando Di lasciare tanti Tanti bei like Per questo nuovo episodio Qui della mappa Erlingrat Detto ciò raga Io mi rimetto a lavoro E nel frattempo Vi mando un grosso saluto E ovviamente Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao